Bene, andiamo allora a Fatima. La Madonna per il 13 di ottobre aveva promesso ai tre pastorelli di Fatima un grande miracolo affinché tutti credessero. Man mano che si avvicinava il giorno fatidico, l'attesa diventa sempre più impaziente, mobilitava folle mai viste in precedenza. Lo riferisce il giornale portoghese ODIA in un reportage del 19 ottobre 1917 che oggi sappiamo essere stato citato da Dona Maddalena de Martel Patricio. Riportavano che si erano spopolati i paesi, spopolati i villaggi, le città vicine, fin dalla vigilia sulle strade gruppi di pellegrini si avviavano verso Fatima. Ancora, il giornale Osteculo. Sulla strada si incontrano i primi gruppi di pellegrini che vanno verso il luogo santo, distante ben più di 20 chilometri, uomini e donne quasi tutti scalzi. Al sorgere dell'alba nuovi gruppi si avviano intrepidi, attraversano l'abitato, il cui silenzio viene rotto dall'armonia dei loro canti. Il sole nasce, ma alla volta del cielo minaccia la pioggia. Le nubi nere si ammucchiano proprio verso Fatima. Ma nulla e nessuno può arrestare coloro che da tutte le strade, con tutti i mezzi di locomozione possibili, confluiscono al paese. A mezzogiorno del 13 ottobre 1917, la vallata era un mare di gente. Era piovuto durante tutta la notte e continuava a piovere. Ma l'attesa era grande, anche se qualcuno era venuto per deridere e assistere allo spettacolo del grande fiasco. Così doveva essere per i non credenti, il grande fiasco. Il momento fissato era il mezzogiorno, mezzogiorno solare. Bene, la pioggia cessò. Alcuni istanti dopo, i tre bambini vedono il lampo. E Lucia, che comincia a gridare, silenzio, silenzio, viene la Madonna. E la Madonna, per l'ultima volta, viene a posare i suoi piedi virginali sopra l'elce dei giorni precedenti. Lucia entra in comunicazione diretta con lei e non sente la mamma che le dice Guarda bene, figlia, guarda bene di non ingannarti. Non la sente. Una nube d'argento avvolge il candido gruppo come una tenue volta d'incenso. Lucia si rivolge con semplicità. Con quella semplicità di sempre, alla Madonna che appare. Lucia chiede Che volete da me? E la Madonna che risponde Voglio dirti che si costruisca qui una cappella in mio onore. Io sono la Madonna del Rosario. Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni. La guerra sta per finire. I soldati torneranno presto alle proprie case. E ancora, Lucia Ho molte grazie da chiedervi. Le esaudirete? E la Vergine che risponde Alcune sì, altre no. E poi aggiunge È necessario che i peccatori si convertano Che chiedano perdono dei loro peccati. Poi, assumendo un'aria di tristezza continua Non offendano più Gesù che è già troppo offeso. E infine Lucia che domanda Non volete più niente da me? E la bianca signora Non voglio altro. Ed è Lucia a concludere con Io pure non vi chiedo più nulla. E la Madonna del Rosario Si è accomiata Per l'ultima volta Dai suoi tre piccoli confidenti. La visione più splendente delle sole Mentre i bambini contemplavano i statici Ha inizio il miracolo annunciato Stupendo come nessuno avrebbe osato sperare. Pensate Forno testimoni diretti Del miracolo delle sole di Fatima Circa 60.000 persone Riprendendo il discorso Del numero precedente Sul miracolo delle sole a Fatima 13 ottobre 1917 Ascoltiamo La narrazione Sempre riportata dai quotidiani dell'epoca Di alcuni testimoni Oculari Quindi erano presenti Racconta il padre di Giacinta Noi guardavamo senza difficoltà Il sole E non accecava Pareva che si spegnesse Poi si accendesse un po' In un modo Un po' in un altro modo Gettava raggi di luce da un lato Poi dall'altro Colorava ogni cosa Di differenti colori Gli alberi La gente La terra L'aria Ma la cosa più Stupefacente È che il sole Non faceva male alla vista Tutto era quieto Tranquillo Tenevamo gli occhi rivolti su Verso il cielo Quando a un certo punto Il sole si fermò Poi cominciò A danzare E a saltare Si fermò un'altra volta Poi un'altra volta Cominciò a danzare Fino al punto che sembrò Staccarsi dal cielo E venire Precipitare Sopra di noi Quello fu un momento Terribile Un'altra testimonianza Maria di Capeligna Che dichiara Il sole assumeva Infine il sole si fermò E tutti noi Un gran sospiro Di sollievo Erano ancora vivi Ed era quello Il miracolo Che i tre fanciulli Avevano annunciato Sessantamila persone La radunate Credenti Non credenti Testimoniavano Il fatto singolare Allo stesso modo Interessantissima Eppure la descrizione Che è stata rilasciata Da padre Ignazio Lourenco Allora io avevo Appena nove anni Frequentavo La scuola elementare Del mio paese Dista da Fatima 18-19 km Si era verso Mezzogiorno Si era verso Mezzogiorno Quando fummo Sorpresi Dalle grida Dalle esclamazioni Di uomini E donne Che passavano Lungo la strada Davanti alla scuola La maestra Fu la prima A correre in strada Senza poter impedire Che noi ragazzi Le corressimo dietro Nella strada Il popolo Gridava Piangeva Indicava Il sole Era quello Il miracolo Il grande miracolo Si vedeva Distintamente Dall'alto del monte Dove è posto Il mio paese E mi sento Incapace Di descriverlo Come anch'io Lo vidi E lo sentii Allora Le 70.000 persone Che assistettero Al miracolo Vicino a me E vicino a me Stavano in credulo Chi aveva passato La mattina Ad ironizzare A ridersi Di tutti Quei creduloni Che facevano Fin lì Quel viaggio A Fatima Per vedere Una ragazza Lo guardai In quel preciso momento Adesso era come Paralizzato Assorto Spaventato Gli occhi Fissi al sole Lo vidi tremare Da capo a piedi E addirittura Levando le mani Al cielo Cadde in ginocchio Nel fango E gridava Nostra signora Nostra signora Passati dieci minuti Di fenomeni Straordinari E terribili Il sole Tornò Alle suo posto Nello stesso modo Con cui era disceso Pallido Quasi Senza splendore Quando la gente Si persuase Che il pericolo Era scampato Allora Ci fu Un'esplosione Di gioia Tutti proruppero In coro Un coro Di ringraziamento Cominciarono Ad urlare Miracolo Miracolo Si è benedetta La Madonna E terminato Il fenomeno solare Avvenne un fatto Naturalmente Inspiegabile Tutta quella gente Inzuppata D'acqua Com'era Si ritrovò Completamente Asciutta La Madonna Aveva Moltiplicato I suoi prodigi Per confermare La verità Delle affermazioni Di quei tre Piccoli Veggenti Quindi a Fatima Il 13 ottobre 1917 Si verifica Uno dei miracoli Più Clamorosi Di fronte A migliaia Di persone Tutte le riunite Tra cui moltissime Erano Non credenti Bene Tra questi Il dottor José Maria Garret Professore Della facoltà Di scienze Che scrisse In seguente Resoconto Titolato La testimonianza Di un testimone Oculare Non credente Sentiamo Come lo descrive Il non credente Saranno state Circa le 13 30 Pomeridiane Quando nel punto esatto Dove si trovavano I bambini Si alzò Una colonna Di fumo Sottile Bella Azzurrina Si estendeva Per almeno Due metri Sopra le teste Dei ragazzini E a quella altezza Evaporava Questo fenomeno Perfettamente Visibile Ad occhio nudo Durò Pochi secondi Non avendo Preso nota Della sua durata Non so dire Se era più O meno Di un minuto Il fumo Si dissolse Improvvisamente E dopo un po' Si riformò Una seconda volta E poi una terza volta Il cielo Che era stato Nuboloso Tutto il giorno Improvvisamente Si schiarì La pioggia Cessò Sembrò Che il sole Stesse per riempire Di luce La campagna Che in quella Mattinata invernale Appareva malinconica Io Stavo guardando Il luogo Delle apparizioni In una serena Anche se fredda Attesa Di qualcosa Che doveva accadere E la mia curiosità Diminuiva Per il lungo tempo Che era passato Senza che nulla Atterrasse La mia attenzione In sole Pochi istanti prima Si era fatto largo Tra la spessa coltre Di nuvole Che lo nascondevano Ora il sole Risplendeva chiaro E intenso Poi improvvisamente Udì Il clamore Di centinaia di voci Vidi che la folla Si sparpagliava Ai miei piedi Voltava la schiena Al luogo Dove Fino a quel momento Si era concentrata La sua attesa Adesso guardava Verso Il sole Dall'altro lato Anch'io Allora Mi sono rivoltato Verso il punto Che richiamava Lo sguardo Di tutti i presenti E potei vedere Il sole Apparire Come un disco Chiarissimo Con i contorni Nitidi Splendeva Senza offendere La vista Non poteva essere Confuso Con il sole Visto attraverso Una nebbia Perché la nebbia Non c'era In quel momento Perché non era Né velato Né attenuato A Fatima Esso manteneva La sua luce E il suo calore Si stagliava nel cielo Con i suoi contorni Nitidi Come un largo Tavolo da gioco La cosa più Stupefacente Prosegue il non credente Era il poter Contemplare Quel disco solare Per lungo tempo Brillante Di luce Di calore Senza ferire gli occhi O danneggiare La retina Durante tutto Questo tempo Il disco del sole Non rimase immobile Aveva un movimento Vertiginoso Ma non come Lo scintillio Di una stella In tutto il suo splendore Perché esso girava Su se stesso In folli Giravolte Durante il fenomeno solare Che ho appena descritto Avvenne anche Un cambiamento Di colore Nell'atmosfera Guardando verso il sole Ho notato Che tutto stava più Diventando più scuro Ho guardato Prima gli oggetti Più vicini Poi Ho esteso lo sguardo Ai campi Lontani Fino all'orizzonte E vidi ogni cosa Assumere Il colore Dell'ametista Gli oggetti Intorno a me Il cielo L'atmosfera Erano di quello stesso colore Ogni cosa Si avvicina Che lontana Era cambiata Assumendo il colore Di un vecchio damasco giallo Sembrava che la gente Soffrisse di terizia Io ricordo Di aver provato Un senso di divertimento Vedendo le persone Sembrare così brutte Sgradevoli La mia stessa mano Era di quel colore Poi improvvisamente Si udì un clamore Un grido di angoscia Prorompere da tutti Perché il sole Roteando selvaggiamente Sembrò staccarsi All'improvviso Dal firmamento E rosso come sangue Avanzare minacciosamente Verso la terra Come per schiacciarsi Con il suo peso Immenso Ardente Ecco Durante quei momenti Io provai Una sensazione Terribile Tutti i fenomeni Che ho descritto Prosegue e conclude Il non credente Forno da me Osservati In uno stato d'animo Calmo e sereno Senza alcun disturbo emotivo Interpretarli E spiegarli È compito di altri Riporta il medico Debo dichiarare Infine che Mai Prima O dopo Il 13 ottobre 1917 Ho assistito A simili fenomeni Atmosferici O Solari Ecco Fin qui Il medico scienziato Non credente Dà una testimonianza Fortissima Ora Veniamo a più XII Che Che vide Il miracolo Ho visto Il miracolo Del sole Questa è la pura verità Siamo nel 1950 Poco prima Di proclamare Il dogma Dell'assunta Più XII Sta passeggiando Nei giardini Vaticani Bene Assiste più volte Allo stesso fenomeno Verificatosi Nel 1917 Un documento Un documento Eccezionale Inedito Proprio su quella Visione Un appunto Manoscritto Quindi scritto Proprio di sua mano Dallo stesso Pio XII Vergato a matita Sul retro di un foglio Nell'ultimo periodo Della sua vita Nel quale In prima persona Il Papa Racconta Ciò Che gli è accaduto Quell'appunto Manoscritto E' stato esposto Nella mustra Vaticana Dedicata a Papa Pacelli Per il cinquantesimo Della morte Questo manoscritto E' un resoconto Asciutto Quasi notarile Senza alcun cedimento Al Sensazionalismo Sentite Era il 30 ottobre 1950 Quindi L'antivigilia Del giorno Della definizione Dell'assunzione Il Papa Stava per proclamare Dunque Dogma di fede L'assunzione corporea In cielo Della Madonna Al momento Della morte E lo faceva Dopo avere consultato L'Episcopato mondiale Unanimemente Concorde Solo Sei risposte Su 1181 Manifestavano Qualche riserva Verso le 4 Di quel pomeriggio Faceva La consueta Passeggiata Nei giardini Vaticani Leggendo E studiando Facelli Ricorda Mentre saliva Dal piazzale Della Madonna Di Lourdes Verso La sommità Della collina Nel viale Di destra Che costeggia Il muraglione Di cinta Sollevò Sollevò Senza Senza Riceverne La minima Molestia Una Leggerissima Nuvoletta Trovavasi Davanti Continua Pio dodicesimo Nell'appunto Inedito Manoscritto Il globo opaco Si muoveva All'esterno Leggermente Sia girando Sia spostandosi Da sinistra A destra E viceversa Ma all'interno Del globo Si vedevano Con tutta chiarezza E senza interruzioni Fortissimi Movimenti Il Papa Attesta Che di aver assistito A questo Fenomeno Lo stesso Identico Fenomeno Il giorno Seguente 31 ottobre E il primo Novembre Giorno Della definizione Del dogma Dell'assunta Quindi di nuovo L'otto di novembre Poi Mai più Ricorda pure Di aver cercato Varie volte Nei giorni Successivi Alla stessa ora In condizioni Atmosferiche simili Di guardare il sole Per vedere se appariva Il medesimo fenomeno Ma in vano Riporta Non potei Fissare Nemmeno Per un istante Perché rimaneva subito Abbagliata La vista Li giorni seguenti Più dodicesimo Riferisce il fatto A pochi intimi A un piccolo gruppo Di cardinali Forse quattro O cinque Fra i quali Cardinali tedeschini Quest'ultimo Nell'ottobre Nell'anno seguente Cinquantuno Deve ricarsi A Fatima Per chiudere Le celebrazioni Dell'anno santo C'era in corso L'anno santo Prima di partire Viene ricevuto In udienza E chiede al papa Di poter citare La visione Nell'omelia Il papa risponde Il papa Testimonia Risposi Lascia stare Non è il caso Ma il cardinale Insistette Continua Più dodicesimo Nel manoscritto Insistette Sostenendo L'opportunità Di tale annuncio E io allora Gli spiegai Alcuni particolari Dell'avvenimento Questa è Conclude Papa Pacelli In brevi E semplici termini La pura verità Punto Sor Pascalina Che era la religiosa Governante Dell'appartamento Papale Dichiara Pio dodicesimo Era persuasissimo Della realtà Del fenomeno Straordinario Cui aveva assistito Per ben Quattro volte Ecco Come lo chiamiamo Noi no Il miracolo Delle sole Si era già verificato Il 13 ottobre 1917 a Fatima Al termine Delle apparizioni I tre tastorelli Così Lo racconta Nella sua cronaca Un giornalista Un giornalista Laico Non credente È possibile E' possibile guardarlo In faccia Senza subire Il minimo Disagio Non scotta Non acceca E si direbbe Un'eclissi Più dodicesimo Più dodicesimo Era molto legato A Fatima La prima apparizione Tre pastorelli Era venuta Il 13 maggio 1917 Lo stesso giorno In cui Pacelli Veniva consacrato Arcivescovo Nella Cappella Sistina È attestato Che Più dodicesimo E' l'unica Sopravvissuta Dei tre Vigenti Cioè Suore Lucia Dos Santos Rimarranno Sempre in contatto E il Pontefice Nell'ultimo anno Della sua vita Conserverà Il testo Del terzo Segreto di Fatima Nel suo appartamento Varie volte Dichiara La Marchesa Olga Pereira De Meglio Testimoniando Al processo Di beatificazione Di Pacelli Varie volte Trasmisi Messaggi Del Santo Padre A Suor Lucia E di Suor Lucia Per Lui Ma siccome Promisi Di mai rivelare Nulla A chi che sia Non mi sento Adesso Autorizzata A farlo Adesso Adesso Da Fatima 13 maggio Scusate 13 ottobre 1917 Miracolo Delle sole Ultima apparizione Della Madonna Fatima E tre pastorelli Ci spostiamo In Nigeria Perché è accaduto Qualcosa di simile Anzi Più o meno La stessa cosa Nel 2017 Il 13 ottobre Le autorità ecclesiali Hanno confermato Che fedeli E religiosi presenti Lì erano Migliaia di fedeli E decine e decine Di religiosi Hanno visto In sole Muoversi Anzi E poi Le autorità ecclesiali Hanno chiesto Un'ulteriore conversione Affinché la Nigeria Guarisca Da guerre Adulteri Contraccezione Aborti Ma Gesù Era già apparso Addirittura Il Signore Era apparso Per chiedere al paese La Nigeria La recita del rosario Forse La maggior parte Non conosce Questi episodi Nigeriani E non si sa Se La conferenza Episcopale Della Nigeria Abbiera O abbia avviato Un processo Per confermare La veridicità Del fenomeno solare Abbi stato ripreso Da numerosi Fedeli laici E religiosi Che erano radunati A Benensiti Il 13 ottobre 2017 In occasione Della riconsacrazione Della Nigeria Al cuore immacolato Di Maria Nel giorno Del centenario Della fine Della apparizione Della Madonna Fatima Tra l'altro Avevano La conferenza Episcopale Aveva consacrato La Nigeria Al cuore immacolato Di Maria Proprio Il primo ottobre Del 1960 Fonti ecclesiali Locali Si sono espresse Così Ho chiesto Testimonianza Ai presenti Il presunto Miracolo Sarebbe avvenuto Nel pomeriggio Dopo le 16 Un vescovo Questa mattina Sui nostri social Ma lo trovate Tranquillamente Nella rete Mettete Sole Nigeria 13 ottobre 2017 Vi appare Bene A confermare Quanto documentato Questo video Che ritrae Il fenomeno solare Con centinaia Dei fedeli Rivolti al cielo Con le mani alzate E' stato Il direttore Delle comunicazioni Della conferenza Episcopale Nigeriana Padre Chris Agnanu Che Ha raccontato Ha spiegato Che la consacrazione C'è in quel momento Erano lì presenti Radunati Circa 55.000 Persone 55.000 E' la mattina Del 13 ottobre 2017 Attraverso La celebrazione Del presidente Della conferenza Episcopale Nigeriana Kaigama Con 53 vescovi Mille preti 2000 Religiosi Poi Sottolinea Che il presidente Della conferenza Episcopale In mattinata Si era rivolto Ai presenti Così Siamo convinti Che qualunque cosa La nostra madre Benedetta Chieda a Gesù Per noi Verrà concesso Il direttore Delle comunicazioni Dice Tonnellate di preghiere Sono stati Innalzate al cielo In questi due giorni Con un intenso Programma Fra cui una processione Con l'intenzione Specifica Di un intervento Di Dio Per guarire La Nigeria Dalle malattie spirituali E poi Continua Riferendo appunto Il miracolo Del sole I segni Che sono seguiti Immediatamente Dopo la riconsacrazione Del nostro paese La Nigeria Molti credono Sono state un'indicazione Del fatto Che Dio Ha risposto Alle loro preghiere Per la nazione Perché Immediatamente C'è stata Una forte pioggia Seguita da bel tempo Di sole E il cambiamento Di colore Delle sole Che danzava Questo fenomeno Inusuale Ha rallegrato I cuori dei pellegrini Sul luogo Della celebrazione A migliaia Perché hanno testimoniato Che quello Che hanno visto Ricordava Il fenomeno Avvenuto a Fatima Nel 1917 Perciò Con riunirsi Dei cattolici Di tutta la Nigeria Riunirsi spiritualmente A Benen City E la consacrazione Del paese Al cuore immacolato Di Maria Crediamo Che Dio Abbia cominciato Il processo Di guarigione Del nostro paese Qui c'è una bella Testimonianza Della conferenza Episcopale nigeriana Che aveva indetto La consacrazione Della Nigeria Nel 2017 Come anno mariano Domandando Penitenze Preghiera Propositi Di conversione Per impugnare La pace Per la Nigeria Lacerata Dal terrorismo islamico Dalla persecuzione I cristiani Dalla corruzione Dalla povertà Ma non è finita Prosegue la conferenza Episcopale nigeriana Perché la consacrazione Della Nigeria Alla Madonna Va di pari passo Con alcune Gravi responsabilità Da parte Di cristiani Specialmente I cattolici Che includono La preghiera Quotidiana Del rosario Il cambiamento Della propria vita Evitando Evitando qualunque cosa Possa scatenare Crisi Conflitti Evitando peccati Della carne Modi di vestire Immorali Peccati Infedeltà matrimoniali Immoralità sessuale Contraccezione artificiale Atti di aborto Quindi Prosegue la conferenza Episcopale nigeriana La Madonna Ci chiede di pregare Confessarci Digiunare Essere uno strumento Di pace Sviluppare Una dimensione mariana Nell'espressione Della fede cristiana In realtà C'è un episodio Importante Perché la Nigeria Aveva già cominciato Un processo di guarigione Dopo Un primo segno Davvero miracoloso Dato al vescovo Della diocese Di Maiduguri Doeme Che nel 2014 Aveva raccontato Il vescovo Che Due punti Aperte virgolette Mentre ero Nella mia cappella Di fronte Al Santissimo Sacramento Gesù Apparendo Chiuse virgolette Gli consegnò Una spada Che Si trasformò In un rosario E poi disse Al vescovo Gesù disse Al vescovo Aperte virgolette Boko Haram È stato sconfitto Chiuse virgolette Così il vescovo Cominciò a viaggiare Per tutta la Nigeria Consegnando Quel messaggio A tutti i cristiani Perché Era chiaro Dice il vescovo Che il rosario Sarebbe stata L'arma Per sconfiggere Per sconfiggere Boko Haram Il messaggio Di Doeme Ha portato Parrocchie Famiglie Persino scuole A pregare Quotidianamente Il rosario Con questa intenzione E perciò Concludo il vescovo Prima I membri Di Boko Haram Erano ovunque Dappertutto Adesso ci sono ancora Ma non sono più Dappertutto A confermare I semi di speranza È stato Padre Kamai Rettore Del seminario Di Jones Che durante La Pasqua Di quell'anno Spiegò Che la relativa Calma Di quell'anno Dopo circa Otto anni Di attentati Continui Si doveva Alla preghiera Che il paese Elevava Un nostro vescovo Ha ricevuto La visione Di Gesù Col mandato Di far pregare Tutti Nel paese E perciò Sono tre anni Che il vescovo Continua a diffondere Questo messaggio E le nostre chiese Lo accolgono Da quando La comunità cristiana Ha cominciato Ad incrementare Le suppliche A Dio Tramite Rosario Quotidiano Dalle macerie Sono cominciate A spuntare Piccoli germogli Di speranza Ora Questi stessi fenomeni Vengono Notati Dai pellegrini Che si recano A Mijugorje Non da tutti Ma Prima o poi Si dice Che a tutti i tocchi Questo Ad occhio nudo Questo sole Che diventa Un'ossia Si allarga E si muove Danza Balla Eccetera La danza Delle sole A Mijugorje A Mijugorje A Mijugorje A Mijugorje A Mijugorje A Mijugorje Qualche tempo fa Qualche tempo fa Come dicevamo Mijugorje Anche lo scenario In cui accadono Questi strani fenomeni Della danza Delle sole Nel 2010 C'era una troupe Di televisiva Mijugorje Che Ha tentato Di filmarlo Lo vedevano Ad occhio nudo Ma le telecamere Non sono riuscite A riprendere il fenomeno Perché La luce Era molto particolare E Non sono riuscite Ad occhio nudo Lo vedevano Osservavano Anche gli altri Che vedevano Lo stesso fenomeno Ma le telecamere Non riuscivano A riprenderlo A causa Di quell'episodio Chiamarono Un fisico Del CNR Valerio Rossi Albertini Che raggiunse Mijugorje Portando con sé Una telecamera Ad alta definizione Corredata Da tutti i filtri speciali Eccetera Ma Il fenomeno Non si ripete Il fenomeno solare Non si ripete Il cielo Sopra le colline Ha Pazzi improvvisi Di luce Come scie Luminose Il fisico Spiega Nei due giorni Di riprese Effettuate Delle sole Non abbiamo osservato Fenomeni anomali Le spiegazioni Dice lui Potrebbero essere Meteorologiche Più che astrali Per quanto riguarda Le colline circostanti Effettivamente Qualcosa di particolare Si è registrato Abbiamo fatto Rilevazioni Solo ottiche C'è bisogno Di ulteriori prove C'era anche Uno psicoterapeuta Presente Durante il fenomeno solare Fausta Marsicano Posso escludere Che sia un fenomeno Di suggestione Perché è stata Una percezione Sincronica E poi Non c'era Nessuna relazione Di empatia Tra di noi Va bene Allora abbiamo citato Questi Tre paesi Fatima Miracolo del sole Lì è attestato Cento per cento Abbiamo visto Nigeria Anche lì C'è davvero Una cosa Estremamente particolare E Međugorje Io a qualche minuto Vorrei aprire I telefoni Perché so Che moltissimi Pellegrini Hanno avuto Questa Strana Visione Delle sole Della danza Delle sole A Međugorje Allora Per qualche minuto E mi hanno detto Mamma mia Roberta Vel coraggio Chissà Cosa ti racconteranno Però io Cercherò di tenere dritto Dei paletti Dei seri Però Insomma Noi stamattina Abbiamo postato Un filmato Che ci è stato inviato Qualche tempo fa È del 2021 Mese di agosto Durante La celebrazione Della Santa Messa Durante Il festival Dei giovani Mladifeste Con migliaia E migliaia Di persone Presenti Nel piazzale Enorme Ecco Per la celebrazione Della Santa Messa E Giustamente Tutti i presenti Avevano gli occhi Incollati Verso l'altare Ma qualcuno Che stava dietro L'altare Aveva davanti Invece L'orizzonte Quindi ha filmato Il sole Che pulsava Pulsava Si allargava Si restringeva Assumeva Questi contorni Stranissimi E ha ripreso Tutto questo fenomeno Vi abbiamo postato Il video Questa mattina Lì si vede bene Le telecamere Professionali Non sono riuscite Invece Beh Proprio così Eh